Integrazione sociosanitaria se ne parla oggi in questa tavola rotonda all'Aurum di Pescara. Assessore, quali sono le linee guida e le novità? Le novità fondamentali è che diamo un'attenzione particolare al malato cronico, ossia portiamo quella sanità appropriata sulla persona. Noi abbiamo spesso le difficoltà del paziente una volta dimesso dall'ospedale oppure quando ha un'assistenza continuativa. Non sappiamo qual è il contesto ben definito dove poter trovare quelle cure appropriate ma anche che poi durino nel tempo. L'integrazione serve proprio a quello, a ristabilire quella che è un'appropriata terapia adeguata ma soprattutto andremo a definire quali sono le strutture attraverso un'integrazione sanitaria, sociale e delle associazioni. Ci sarà anche un maggior utilizzo di fondi, fondi spesi probabilmente anche in maniera diversa rispetto al passato? Sì, senz'altro la quota sociale è una quota che incide meno per cui quelle prestazioni spesso e volentieri anche inappropriate perché non sappiamo il paziente cronico, l'anziano, poterlo collocare in quale struttura. Oggi andremo a definire sia la struttura sia la retta e qual è il percorso diagnostico. Grazie a tutti.